A noi il Natale profuma di fritto, ti svegli il 24 e senti il profumo del fritto. Ricordo di famiglia e nonna al tavolo che ti dice hai mangiato poco, prendi un bello pezzullo di baccalà. Quindi questo pezzullo di baccalà noi l'abbiamo portato anche qui in frigitoria. Prendi un vaso che richiami il tema natalizio, metti delle foglie argento piuttosto che oro, aggiungi dei fiori in contrasto che possono essere bianchi, rossi, puoi aggiungere dei brillantini, dei glitter, un bel nastro affine la tua composizione e hai fatto il tuo centrotalva di Natale. Una buona tisana dopo l'alcenone può aiutare e il miele in questo torna a essere protagonista, può aiutare a lavare via tutta la stanchezza di queste giornate molto caotiche. E un miele che io consiglio, ad esempio quelle tisane, può essere il miele di tiglio. Quale augurio migliore che, mentre si fa il cioccolato, dirvi Buon Natale? Che il Natale sia semplicemente una bella spesa per stare insieme. Buon Natale a tutti! Auguri da Fico! Auguri da Fico! Auguri da Fico! A Sra.